Una vasta depressione con minimo sulle isole britanniche interessa gran parte dell'Europa. Una perturbazione associata a tale depressione interesserà l'Italia tra la sera di sabato e la mattina di domenica, nei giorni successivi temporaneo aumento della pressione. Domenica 5 novembre molto nuvoloso nella notte e nelle prime ore del mattino, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite in estensione dalla costa alle zone interne. Nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso con locali addensamenti, in serata non esclusa qualche isolata pioggia. Venti forti da ovest-sud-ovest, mari agitati a nord dell'Elba, molto mossi a sud. Temperature insensibili a aumento, in particolare nei valori minimi. Sul territorio provinciale prevalentemente nuvoloso. A Lucca e sulla Piana minima 15, massima 20 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 13, massima 18 gradi. A Viareggio e sul litorale minima 16, massima 20 gradi. Grazie per la visione dell' grouplarda. Grazie a tutti.